e non dimentichiamo questo che stiamo vivendo il mese dedicato a maria la mamma per eccellenza il mese di maggio un mese bellissimo soleggiato soprattutto le rose sbocciano soleggiato a tratti a tratti ancora non arriva il caldo quello pieno e allora diciamo che in queste belle giornate ci vuole sempre un caffè ci sta benissimo benissimo soprattutto quello di paolo pugni ascoltiamo buongiorno buon caffè abbiamo una spiccata predilezione per le cose grandi le cose maestose le cose che ci sembrano potenti e questo ci porta talvolta a dimenticare a trascurare a sottovalutare l'importanza invece delle piccole cose in modo particolare questo è vero perché perdiamo di vista a volte un po perché indotti anche dalla cultura generale il collegamento che esiste tra causa ed effetto e cioè come le piccole cose abbiano degli effetti poi che vanno avanti nel tempo è la politica del senno di poi di cui Elena Massetti ha parlato di recente in un video su linkedin ce lo ricorda anche Jeffrey Gitomer nel suo libro il manifesto della vendita perché poi le cose alla fine sono un'unità di vita di fondo le cose sono comuni quello che faccio nel lavoro capita nella vita e viceversa e ci ricorda come ci sia bisogno di partire dalle piccole cose dai gesti di gratitudine dal sorriso dal prendersi cura del nostro interlocutore dal mettere ordine tutti i piccoli gesti che alla fine possono avere un grandissimo impatto un impatto a lungo termine dobbiamo avere questo concetto come diceva Elena del senno di poi cosa succederà dopo qual è l'effetto che posso produrre qual è il battito d'ali della farfalla che produce un ciclone in un'altra parte del mondo e questo fare piccole cose in fin dei conti cambia anche noi e parlavo qualche tempo fa sul proposito del senso del lavoro nel caffè sul senso del lavoro se ricordate perché in fin dei conti è nel fare questi piccoli gesti che da una parte metto a frutto quello che sono quindi spiego rendo concreto quello che sono dall'altro mi miglioro imparo come diceva un saggio che ho molto a cuore non si possono vincere le olimpiadi se non ti alleni tutti i giorni non puoi arrivare in fondo a una maratona se non hai seguito una tabella e non ti sei allenato con costanza tutto il tempo necessario e allora nella vita come nella professione è difficile arrivare a ottenere dei risultati se non ci impegniamo nelle piccole cose nei piccoli dettagli di tutti i giorni di tutti gli istanti direi di più di ogni singolo incontro se non ci mettiamo dentro il cuore la passione e quell'intelligenza che li fa diventare speciali eccolo qua e ci tenevo a farvelo vedere vediamo il controluce eccolo qua adesso lo leggo la maternità è un master di andrea vitullo e riccardo azzezza che è proprio un programma di vita il concetto che proprio dentro alla maternità c'è tantissimo che può essere utile persino per il mondo del lavoro e questa ricchezza non va buttata via ricordo leggere il vostro futuro la maternità è un master e magari si può intervistare anche per padre più tv cosa ne dite buongiorno a tutti e un salutone a tutti gli ascoltatori a te alla maria e attraverso di te a tutti coloro che oggi hanno partecipato a questa puntata grazie paolo come sempre efficace questo caffè grazie anche per i consigli se avremo la possibilità ovviamente lo faremo con tutto il cuore insomma intervistare anche ci abbiamo uno spazio dedicato ai libri quindi si può approfittare e la grandezza sta nelle piccole cose chi è che fa tante piccole cose a volte passano anche inosservate le mamme le mamme fanno tante piccole cose vivere con il senno di poi mi è piaciuto molto questo passaggio questo passaggio di paolo vivere con il senno di poi significa forse perdere la spontaneità dei gesti delle parole forse no significa piuttosto incanalarla a favore del bene degli altri quello che le mamme hanno proprio a cuore nei confronti nei confronti dei loro figli ma nei confronti anche del loro ambiente del loro del loro mondo ma di tutto il mondo in generale perché il mondo e mamma ci dà tante cose ci fa tanto bene siamo noi che spesso ci mostriamo figli ingrati danneggiandolo oscurandolo privandolo della sua bellezza dovremmo riscoprire anche questo questo senso del mondo come mamma come madre che provvede a noi in tutto come fa dio se l'immagine più belle l'icona più bella di dio il mondo che ci sta attorno quindi imparare anche noi questi piccoli gesti propri delle mamme che ed esserne riconoscenti ed esserne riconoscenti soprattutto perché la riconoscenza penso sia il grande assente nelle relazioni di oggi come tutto è dovuto tutto deve essere dato tutto pretendiamo perché tutto è concesso invece non è così niente dovuto niente scontato quindi recuperare anche questo senso di di bellezza e di e di sudore anche nelle cose perché no perché ce le dobbiamo guadagnare la gratitudine non deve mai mancare nelle nostre giornate nei confronti non soltanto delle mamme ma di chi ci sta accanto è che c'è vicino appunto anche in silenzio sotto voce senza senza urlare senza gridare perché a volte gli insegnamenti migliori arrivano proprio quando meno te lo aspetti o comunque quando non sono eclatanti quando noi riusciamo a receperli anche anche dopo i nostri errori allora riusciamo a farli nostri noi dall'altra parte dello studio abbiamo pronta maria antonia di maggio con una mamma super parlavamo di mamma mamma super e racconta la sua storia a te maria antonia grazie anna per la linea sono in compagnia di una persona speciale di una donna speciale di una mamma innanzitutto speciale che ha combattuto una grande battaglia cioè quella di salvare il suo figlio da una strada sbagliata la strada della droga da questa battaglia da questa esperienza nasce un libro soffia forte il vento nel cuore di mio figlio non a caso alla quarta ristampa qui leggo il libro che ha aiutato migliaia di madri ad affrontare l'adolescenza di figli difficili grazie carolina innanzitutto per essere qui con noi grazie a voi abbiamo pochissimo tempo per cui io starò zitta da questo momento in poi e voglio che sia proprio tu a raccontare la tua storia ma la mia storia che poi è la nostra storia la storia della nostra famiglia la storia di una famiglia che a un certo punto si trova a fronteggiare lo tsunami dell'adolescenza del proprio figlio sebastiano il secondo di quattro che a 13 anni cade nel vortice delle dipendenze sembra pazzesco ma in terza media lui ha iniziato a fumare ha iniziato a farsi le canne da lì a pochissimo è iniziato a entrare in un giro di spaccio e come dire noi genitori assolutamente neofiti per cui presi dal panico non sappiamo cosa fare la parola d'ordine è i panni sporchi si lavano in casa propria quindi il primo errore che abbiamo fatto è stato quello di non chiedere aiuto il secondo errore è stato quello di vergognarci di avere un figlio che cade nelle dipendenze perché come dire noi siamo ed eravamo una famiglia assolutamente normale da lì tutta la storia si evolve per tre anni non riusciamo ad aiutare questo ragazzo che cade sempre di più nel buio nel tunnel fin quando a un certo punto consapevoli del fatto che se non avessimo preso una decisione forte per lui sarebbe finita veramente male e quindi solo solo in quel momento quando lui ha 16 anni decidiamo di chiedere aiuto decidiamo di chiedere aiuto a una comunità terapeutica per tossicodipendenti minorenni e a quel punto lui entra in comunità noi tutti entriamo in comunità perché un figlio che cade nelle dipendenze ma un figlio comunque problematico non è il problema e questo è il grande insegnamento che ci portiamo a casa tutti da questa esperienza in realtà un figlio problematico è un figlio che è come se fosse una sirena che si mette a lampeggiare all'interno di un contesto familiare ed è il suo modo per chiedere aiuto quindi da lì nasce poi tutta la nostra vicenda perché poi Sebastiano esce dalla comunità abbiamo fatto un percorso straordinario meraviglioso io questo ci tengo a dirlo tante volte le famiglie hanno paura di questa parola perché c'è tanto pregiudizio oggi le comunità terapeutiche per tossicodipendenti minori in realtà sono delle case educative dove questi ragazzi fanno un percorso di crescita personale straordinario e dove all'interno di questi contesti non ci sono solo tossicodipendenti ma ci sono i nostri adolescenti i nostri adolescenti che hanno tantissime forme di dipendenza dalla ludopatia all'alcol all'autolesionismo i disordini alimentari la tossicodipendenza intesa anche solo come dipendenza forte da cannabis perché mio figlio è andato in comunità perché aveva una fortissima dipendenza da cannabis perché a volte si tende a pensare che ci siano dipendenze più pesanti e dipendenze più leggere si pensa che in comunità ci vadano gli nomani no ci vadano comunque quei ragazzi che si sono persi che hanno perso il lume della ragione che si trascinano per le strade che hanno i denti marci in realtà non è così quando noi siamo andati a trovare nostro figlio dopo sette mesi che non l'abbiamo né visto né sentito abbiamo trovato 40 ragazzi in percorso ragazzi e ragazze assolutamente meravigliosi come lui e quindi oggi quando con papà giampietro della fondazione pescionino rosso perché nel frattempo poi sono diventata una volontaria della della fondazione e ci tengo a dirlo che tutti gli introiti del libro vengono devoluti alla fondazione quindi non è speculazione no ma è proprio il desiderio di portare una storia che può essere utile quando io incontro i ragazzi nelle scuole quello che dico ai ragazzi è guardate che mio figlio è uno di voi e ma che ha perso la vita il figlio di giampietro serenella è uno di voi quindi proprio il desiderio è quello di fargli rendere conto che la tossicodipendenza le droghe in generale la dipendenza è molto democratica e raggiunge pervade qualsiasi tipo di famiglia non c'è famiglia per bene non c'è famiglia per male purtroppo è un male che invade e pervade e la testimonianza di questo libro vuole proprio essere una mano d'aiuto a tutti quei genitori che a un certo punto non sanno più cosa fare e che pensano che chiedere aiuto sia sbagliato e che pensano tutto quello che abbiamo pensato noi sebastiano si è lasciato aiutare da voi sebastiano a 16 anni non aveva ovviamente nessuna intenzione di entrare in comunità sono state fatte delle manovre come dire forzate perché lui era ancora minorenne quindi noi potevamo agire lui per sette mesi non ci ha voluto né vedere né sentire talmente arrabbiato con noi oggi a 21 anni è un ragazzo che sta crescendo è un ragazzo che sta diventando un giovane uomo e ringrazia allora ricordiamo soffia forte il vento nel cuore di mio figlio di carolina bocca leggo ancora una volta il libro che ha aiutato migliaia di madri ad affrontare l'adolescenza di figli difficili è importante soprattutto è importante quello che hai detto tu carolina all'inizio non vergognarsi chiedere aiuto questo è fondamentale noi ti ringraziamo per aver portato la tua testimonianza sicuramente d'aiuto e di conforto alle tante mamme che ci stanno seguendo io oggi mi dedico agli altri quindi anche io posso essere una fonte d'aiuto grazie mille e complimenti grazie grazie anna restituiamo a te la linea grazie grazie a te maria antonia grazie alla super mamma carolina bocca effettivamente riprendendo il caffè di paolo pugni la maternità è un master e il master questa mamma lo merita tutto lo merita tutto sì veramente per quello che ha fatto insomma per quello che continua a fare anche in favore di chi si trova si è trovato nelle stesse nelle stesse condizioni di suo figlio penso che è un diploma di merito abbastanza importante caspiterina anche perché insomma sono purtroppo tante le mamme che vivono le stesse situazioni e quindi può essere d'aiuto questa testimonianza da contattare sicuramente perché purtroppo le mamme ce ne sono tante di mamme e tante vivono situazioni diverse e a proposito di questa diversità ci sono poi le mamme che hanno un cuore triplicamente grande nel senso che è enorme grandioso perché decidono anche di adottare e quindi insomma anche lì va il master per la maternità assolutamente ecco perché poi ci ritroviamo sempre con lo stesso pensiero ed è l'argomento il tema il contenuto del di ripetita di questa puntata noi salutiamo tutti voi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ovviamente anche alla riflessione dall'altra parte delle telecamere grazie a te don pasquale come sempre con il tuo supporto il tuo aiuto preziosissimo grazie a te grazie a tutti e buona domenica in famiglia con le mamme date un bacio alle vostre mamme non perdete questa occasione anche tu perché ce l'hai a pranzo io lo so oggi insieme e buona domenica alla prossima